Sì! Grazie a tutti. 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 Allora, mentre torno a casa vi dico che sono bellissimi, cioè li adoro. Magari le palline mi sembrano un po' grandi e anche le stecche, però tra un mese, quando le mie guance si sgonfieranno, metterò le palline più piccole e le stecche più piccole. Grazie a tutti. E' un po' il primo perché pensavo di morire, invece non è andato tutto bene. Il secondo me l'ha dovuto fare due volte perché non erano fatti con la stessa angolazione, ma abbiamo aspettato due minuti, l'abbiamo rifatti ed è andato tutto bene. Farò malissimo adesso, farò malissimo adesso curarli e prendersene cura perché la mia guance è gonfissima, non potrò fumare per un mese, la cosa sarà traumatizzata e tra l'altro vedete quanto in culo e lupi abito. E niente, spero che questo mini video dei miei Dalia vi sia piaciuto e vi terrò aggiornati, prima o poi. Ci vediamo sabato, credo, o comunque in settimana con il video di Barcellona. Ciao!